Lo vedete questa meraviglia? Lui è Artustella, è uno dei cagnolini meravigliosi di cui vi parliamo questa mattina e che cerca una nuova famiglia. La nostra Susanna di Tiaffidofido è venuta a raccontarci la sua storia. Lui è un cagnolino che è stato trovato nelle campagne di Matera ed era in pessime condizioni. Non è giovanissimo, ha nove anni. Eh beh, però non siamo neanche vecchietti. Lui ha la lesmania, è stato curato, adesso sta molto meglio, prende solo una pastiglietta al giorno, anche i suoi piccoli problemi ai reni sono curati, infatti è rifiorito. E ha una faccia bellissima. Adottate Artù, ha bisogno veramente di una casa, guardate che pacioccone. Sono sicura che nessuno resisterà. E allora, diamo il numero di telefono per adottare questa meraviglia? 349 173 7933